Gabriel ti sei trovato buttato nella mischia per l'assenza momentanea di Luzziatelli e hai giocato forse la tua miglior partita da quando giochi col Maccabi Esatto, esatto, sto sparando le ultime cartucce Sì, sì, devo dire, è una bella prestazione ma se gioco bene anche grazie ai compagni, all'aiuto che danno lo spirito è quello di aiutare sempre subito il compagno e quindi cerchiamo di giocare il più sereni possibile E si vede anche dagli scambi che funzionano, dal gioco che funziona, l'aiuto da parte di tutti, manca uno, giochi tu e dai un contributo importante Questa squadra secondo te può tornare ai livelli di due anni fa, tre anni fa? Sì, diciamo che gli ultimi anni abbiamo avuto qualche problema sulle assenze, infortuni Quest'anno contiamo di riprendere al meglio Abbiamo nuovi elementi, dei ragazzi bravissimi che già sono entrati proprio alla grande dentro il gruppo Sembra che, anzi, che giochiamo da tanti anni insieme Quindi l'obiettivo nostro è questo, quindi speriamo di fare bene e di migliorarci sempre di più Gli ingressi infatti di Sasson, di Arauco, sembrano veramente dei veterani Da come si muovono Esatto, esatto, no, no, ma proprio forse penso che è anche un po' lo spirito della squadra Quando vedi già la squadra che è motivata e tu sei nuovo e entri Hai subito la voglia comunque di dimostrare le tue capacità, di voler fare Quindi entrano subito con lo spirito giusto, con la cattiveria Anzi, non sembravano neanche dei sostituti, sembravano che avessero giocato già al primo tempo Quindi lo spirito è questo e cerchiamo sempre di non mollare mai un centimetro Grazie Gabriele Pamoncello Grazie mille